Occhio e giornali, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa Occhio e giornali. Il commento, la stampa del giorno in onda tutte le mattine dal lunedì al sabato su Fano TV, canale 17 alle 7 puntuali del mattino. Oggi è mercoledì 26 maggio e siamo qui per sfogliare i giornali che abbiamo selezionato per voi. Lo vedremo tra poco, non prima però di aver dato un'occhiata al santo del giorno. Il santo di oggi è San Filippo Neri e poi il tempo che arriva tra un istante dopo avervi detto che l'alba questa mattina è alle 5.33 e tramonterà il sole alle 20.42. Dal sito della protezione civile oggi cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni, temperature lieve diminuzione. Per la giornata di domani ancora cielo sereno o poco nuvoloso. Venerdì stessa cosa, 28 maggio cielo sereno o poco nuvoloso. Tempo stabile anche nel fine settimana. Allora, Monte Copiolo e Sasso Feltrio, bye bye, addio. Il Senato ha dato l'ok al distacco, i due comuni dunque saranno annessi alla Romagna. Delusione del PD che parla di grave errore. A centro pagina la guerra degli ombrelloni, sempre meno spazio in spiaggia. Parliamo di Pesaro, gli albergatori contro i bagnini. Poi la storia, il personaggio Giulia, il genio che cerca la verità nel buio delle galassie. E poi la lotta al virus, ecco i fantasmi vaccinali, i 15.000 che sono ancora senza iniezione. E poi sui postumi del Covid, odori e sapori, il medico mostra in diretta come si recuperano. Megabox oggi a Pinerolo, la prima finale per la A1, parliamo di pallavolo e poi di basket. Sacchetti chiama Zanotti, raduno con la Nazionale. Mancano gli ombrelloni, titolo d'apertura il Corriere Adriatico di Pesaro. Hotel costretti a negare le prenotazioni per le spiagge ristrette. Il presidente degli albergatori Oliva dice passiamo alle vie legali. Pensiamo e poi passeranno probabilmente. Burrascosa assemblea degli albergatori che non fanno sconti al comune. Gli interventi sono assurdi. Sì del Senato, i due comuni dunque in Romagna, addio a Montecopiolo e Sassofeltro. Per la scuola d'estate, scuola d'estate per 168 istituti, 4 milioni sono già disponibili. Dunque nelle Marche sono 168 gli istituti didattici che hanno aderito al piano del governo della scuola d'estate, facendo richiesta anche per attingere i fondi del programma operativo nazionale. Tre fasi programmatiche su base volontaria, docenti e studenti. Gli istituti che partecipano a questa iniziativa, della scuola quindi anche durante l'estate, verranno sostenuti con oltre 4 milioni di euro. Poi a Pesaro la stazione ferroviaria tra reti ferrovie italiane e il comune firma sulla rinascita. Fiere Marche Nord con area vasta, nodo del personale, poi da Estreferonia, nuove soluzioni a Fano per il biodigestore. La cronaca, moglie picchiata e vessata nell'incubo, anche la figlia, il marito maceratese è stato arrestato a Rimini. Andiamo adesso a vedere invece la pagina della pandemia per dirvi che ci sono davvero buone notizie. Se già si intravede la zona bianca anche nelle Marche a partire probabilmente dalla metà di giugno, il che significa il ritorno alla normalità. Quasi fuori dall'incubo, questo è il titolo del Corriere di oggi, le Marche in zona bianca non prima del 14 giugno. L'incidenza è di 59 casi su 100 mila abitanti, ma bisogna scendere ancora un po'. Da 59 bisogna scendere a 50. Le province di Ancona e di Fermo hanno già i numeri da ex fascia gialla, quindi potrebbero già essere tranquillamente in fascia bianca. Intanto oggi sulla zona bianca il governo si confronterà con i governatori, pronti a proporre una fascia bianca rafforzata per evitare il rischio di una repentina retrocessione nel caso in cui l'incidenza settimanale dei contagi dovesse risalire, anche se di poco oltre i 50 casi ogni 100 mila abitanti. Strutture residenziali, 594 anziani deceduti da inizio pandemia. Eppure sentire, questo è il titolo con la notizia che vi segnalo sul resto del crinio di oggi, alla ricerca dell'olfatto nella clinica dei risvegli dei sapori. C'è tanta gente ancora che dopo aver contratto il virus non riesce bene a sentire gli odori, c'è ancora qualche strascico. Ebbene, il reparto di otorinolaringoiatria di Marche Nord, diretto dal dottor Luca Scanio, lo vedete qua in questa fotografia, ecco ve lo cerchio, ha una lista di pazienti lunghissima che provengono praticamente da tutta Italia. Tra pennarelli odorosi e fisioterapia nasale, ecco come fanno a ritrovare il gusto della vita. Intanto il bollettino di ieri, nuovi positivi, per una volta non siamo primi. Ieri 22 casi, i pazienti in calo e nessun decesso in provincia di Pesurbino. L'unico decesso nelle Marche è un 71enne con patologie pregresse di Falerone nel Fermano. Dicevo, per quanto riguarda il primato, ieri la provincia di Pesurbino non è stata prima perché è stata superata da Ascoli Piceno, anzi con 31 contro i 22 della provincia di Pesurbino. Dicevamo degli albergatori che a Pesurbino invece si sono arrabbiati moltissimo con i bagnini e a un certo punto l'assemblea si è anche animata. Gli albergatori fanno scoppiare questa guerra della sabbia. I titolari di hotel accusano quelli degli stabilimenti balneari di avere una posizione dominante. Uno di loro, Valerio Bizzi, del Presidente dell'hotel, dice io ho 5 ombrelloni per 60 camere, ditemi voi come devo fare. La spiaggia è della città, non è dei bagnini. Quindi questa è un po' la posizione. Adesso bisognerà vedere se c'è una soluzione oppure no. Fabrizio Liva, Tiriamballo Fano, Fano ha avuto 4 milioni per le scogliere e noi invece non abbiamo visto ancora un soldo. Sulla questione del sessismo, di quella uscita che ha coinvolto la Nazionale Cantanti di cui Fano si è già occupata, ha già visto le prestazioni agonistiche perché è venuta questa Nazionale Cantanti in alcune occasioni, in un paio d'anni, insomma. La Nazionale Cantanti maschilista, io ci ho giocato, non è un tabù, dopo il caso sollevato dalla comica Aurora Leone, la fanese Letizia Badeia munisce, i muri vanno abbattuti. Ora, non è che mi appassioni moltissimo questo argomento, ma comunque diciamo che sui social questo se ne parla, ma secondo me, per quello che ho potuto leggere anche questa mattina, un po' di dichiarazioni, un po' di cose, insomma, mi pare che ci sia molto una forzatura dietro queste parole. Secondo me si tratta di un grande equivoco, poi molti cercano di non farlo passare per un grande equivoco e sembra che è cascato il mondo, insomma, su questa cosa. Ora, non essendoci le riprese, credo, video, almeno non le ho viste, uno può dire tutto il contrario di tutto. Comunque, questo dirigente della Nazionale Cantanti che avrebbe detto a questa attrice cosa ci fai qui seduta, non puoi stare qui perché tu sei una donna, vai da un'altra parte, quando mai le donne giocano a calcio, insomma, messa così potrebbe essere anche... ma non me la vedo, che è un dirigente che lì da tanto tempo si metta a spostare una donna da un tavolo all'altro, non lo so, comunque, vabbè. Biodigestore, nuove opzioni, Aset si assicura autonomia, Mascarin giudica interessanti e profiqui entrambi gli incontri con Estra e Feronia, se Marche Multiservizi non è disposta a condividere la gestione del biodigestore con Aset senza una preventiva aggregazione del servizio di igiene ambientale con un progetto ben impegnativo per l'azienda avvanese dei servizi pubblici locali ora si schiudono nuove prospettive sull'impiantistica idonee a garantirle l'autonomia di gestione anche nella lavorazione della frazione organica dei rifiuti urbani e degli sfalci del verde per produrre biometano e compost per l'agricoltura intanto c'è una delibera installata in città fanno 159 punti luce a led illuminata pure la pista ciclabile fanno fenile sul Tempio della Fortuna si consuma lo strappo l'archeologo Baldelli, ex funzionario della sovrintendenza smonta i toni sensazionalistici sugli scavi nessuna scoperta perché tutto è noto ormai da anni Don Nestore, un prete in trincea siamo sempre a Fano, lotto per la mia scuola e i ragazzi dal 1973 alla guida del centro studi Manzoni il sacerdote fa i conti con le conseguenze della pandemia questa emergenza sanitaria ha demolito tutto e svuotato le persone ma per me non contano i numeri piscina ancora senza nuotatori si salva solo grazie allo sponsor Fano Fortuna e ringrazia la Profil Glass per il contributo che aiuta a coprire i costi e poi la petizione contro la sosta a pagamento avvio tiepido, l'iniziativa di Pollegioni per un rinvio al 2022 andiamo sull'altra pagina eccola qua, siamo sul Carlino di Nuovo di Pesaro più parcheggi, un ostello e lab per le biciclette il comune RFI trasformano la stazione treni inizio lavori entro il 2022 l'importo è di 16 milioni divisi tra due enti resta in generale Ricci dice il degrado si combatte con il bello il genio di Giulia la storia invece di questa ragazza Giulia Giannini che qui vedete sotto a un telescopio telescopio molto grande è una ragazza pesarese che nella squadra cosmologica più grande del mondo si chiama Giulia Giannini 30 anni insieme ad altri 399 scienziati della Dark Energy Survey si è concentrata per tre anni sull'osservazione di 250 milioni di galassie un esperimento che cerca di determinare con precisione la quantità di materia ed energia oscura presente nell'universo avevo voglia, dice lei, di dimostrare qualcosa sto 12 ore al giorno al PC noi conosciamo solo il 5% di quanto c'è nell'universo da Urbino, Monte Copiola e Sassofeltro è secessione il Senato ha approvato il cambio di regione verso l'Emilia Romagna il referendum consultivo era stato fatto ben 14 anni fa e dunque tutti gli abitanti insomma qualche migliaio di abitanti residenti di Monte Copiola e di Sassofeltro si sono risvegliati in Romagna dando seguito a quanto deciso dalla Camera nel 2019 ieri il Senato ha approvato il disegno di legge per il distacco di questi due comuni dalle Marche e il passaggio dunque di regione e che cosa dicono? Qualcuno dice contento altri un po' meno però qualcuno sostiene sostiene che l'avevo segnato da qualche parte eccolo qua interessante questo a Sassofeltro ecco per esempio a Sassofeltro festeggia l'amministrazione con il sindaco Bruno Ciucci in carica dal 2011 che afferma ieri era un sogno oggi invece realtà le Marche sono una bella regione ma non possiamo dimenticare come si è fatto il nostro territorio e che i servizi e le esigenze siano altre ne avremo di più vicini come quelli sanitari perché facciamo riferimento a Riccione, Cattolica e Forlì e ci saranno maggiori opportunità lavorative anche per i giovani quindi questo per dire come l'esigenza principale insomma sia quello che poi effettivamente quando si è nelle zone di confine è un problema questo del passaggio da una regione all'altra che insomma non è è una storia che si ripete praticamente in tutta Italia in tutte le zone di confine vi faccio vedere invece questa fotografia guardate qua questa pagina di giornale qui abbiamo un bambino la foto di un bambino un bambino scomparso 42 anni fa e questa è la foto di come potrebbe essere oggi ci sono questi sistemi computerizzati che invecchiano i volti il mistero del bimbo sparito a Villa Potenza siamo sempre qui nelle Marche Sergio è vivo e noi non smettiamo di cercarlo il piccolo Isidori scomparso il 23 aprile del 1979 aveva 5 anni la sorella che vedete qui sotto invece Giorgia dice potrebbe essere stato rapito o adottato illegalmente e lei dice dice una cosa molto semplice se qualcuno si comincia a fare delle domande se qualcuno insomma ha vaghi ricordi di infanzia che non combaciano con altri che ha dubbi che si chiede da dove sia venuto insomma ecco visto che oggi c'è anche internet ecco se qualcuno si sta facendo queste domande e magari si ritrova anche con questa fotografia e guardando anche quella da piccolo ecco sappia che c'è questa possibilità di rintrecciare questa famiglia naturale intanto da Falconara invece una brutta bruttissima esperienza un impatto con gli uccelli un decollo shock aereo di traverso e pista fuori uso è scoppiata anche una gomma per la frenata l'incidente ad un velivolo dell'aeronautica militare che ha bloccato l'aeroporto Sanzio per addirittura 12 ore vedete questo velivolo militare fermo sulla pista a Falconara a destra invece un momento dei soccorsi era a 170 km orari stava andando sulla pista dell'aeroporto delle Marche in piena fase di decollo quest'aereo in dotazione all'aeronautica militare quando il bird strike l'impatto con i volatili è stato repentino ed inevitabile a bordo il comandante e il copilota non hanno perso il controllo della situazione pur nel prevedibile spavento e quindi hanno immediatamente dato l'avvio ad una frenata tanto improvvisa quanto violenta al punto tale che una gomma del carrello poi è scoppiata e l'aereo si è messo di traverso ha svoltato verso destra rispetto alla pista dell'aeroporto insomma aeroporto che poi è stato bloccato come dicevamo per 12 ore Senigallia invece insulta i gay minacce al consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marcello Liverani minacce e insulti a questo consigliere per la frase infelice sugli omosessuali tanto che Liverani è costretto a chiudere le sue pagine social la miccia che ha fatto scoppiare l'incendio risale alla scorsa settimana quando in un post su Facebook ha scritto se passa il DDL ZAN la prossima mossa del neoliberalismo sarà quello di farvi accoppiare pure con gli animali una frase che immediatamente ha scatenato le reazioni e lo sdegno della politica ora c'è stato poi un incendio a Montemarciano sulla statale a Marina poi droga nelle tasche due ragazzi sono finiti nei guai intensificate le verifiche con le riaperture delle attività tre multe per il mancato rispetto dei divieti i divieti chiaramente del Covid ma torniamo un attimo a parlare prima di salutarci sulla sulla vincita del superanalotto abbiamo parlato l'altro giorno a Montappone quell'uomo che ha vinto 156 milioni di euro al superanalotto oggi il Corriere Adriatico titola il milionario a fretta la schedina già presentata all'incasso nuovo record per Montappone l'attesa di soli tre giorni per simili cifre non è mai stata così breve l'attesa quindi di solito si aspetta un po' di più evidentemente però non è così ma attenzione quello che volevo segnalarvi portare alla vostra attenzione è qui l'intervista di Chiara Morini del Corriere Adriatico è questa questa dichiarazione di una psicologa psicologa Marina Maria scusate Antoniozzi Maria Antoniozzi che dice siccome Antoniozzi è una psicologa e psicoterapeuta esperta in psicotraumatologia ipnoterapia e psicologa giuridica osserva dice che il rischio per chi vince somme così elevate è quello di soffrire poi di una sindrome di adattamento se riesce ad adattarsi ok altrimenti si corre il rischio di essere disorganizzati che detta così potrebbe anche dire insomma non è tutto questo gran problema essere disorganizzati quanta gente c'è disorganizzata ma cosa vuol dire adattarsi qui si tratta di trovare l'equilibrio tra chi si è quindi tra chi si è fino al giorno della vincita e chi si è dopo e chi si vuol diventare il giorno dopo spiega sempre l'Antoniozzi se il cambiamento non è graduale in un paio di anni si rischia di cadere in questa sindrome di adattamento che ho appena descritto quindi ci vogliono un paio di anni secondo l'esperta tradotto il vincitore se è esso quello di Montappone o qualsiasi altro vincitore o è in grado di gestire questa somma altrimenti è un problema vediamo cosa dice in chiusura ecco intendo dire che non si deve cambiare la propria identità in modo repentino perché si rischia una crisi psicotica e non si è più se stessi prosegue la psicologa si perde la propria identità quella profonda e questo quindi il rischio per non correre lo bisogna agire con sapienza la sapienza attenzione non la compri al supermercato non hai ordini su internet tu vuoi avere anche un miliardo di milioni di miliardi ma la sapienza se non ce l'hai non ce l'hai non si compra e quindi si perde la propria identità profonda questo quindi il rischio e per non correre bisogna agire con sapienza sicuramente un aiuto psicologico può servire in questi casi per adattarsi gradualmente alla nuova situazione ed è tutto per la nostra rassegna ci rivediamo domani mattina come sempre alle 7 grazie per averci seguito grazie per essere stati con noi in nostra compagnia vi ricordo alle 18 il rosario dal Messico e questa mattina alle 9 invece da Roma dalla città del Vaticano l'udienza generale del Papa e alle 20 e 30 ovviamente le notizie del nostro telegiornale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.